In attesa di tornare nelle aule giudiziarie, il confronto a distanza tra il sindaco Francesco Italia e l'avvocato Ezechia Paolo Reale si fa sempre più incalzante a colpi di conferenze e stampa dichiarazioni. Hanno incrociato i guantoni e sull'ipotetico ring della politica cittadina se le stanno dando di santa ragione. Il nuovo mezzo di comunicazione scelto per scambiarsi i fendenti a fil di lapis è la lettera aperta. Reale l'ha scritta ai suoi sostenitori, Italia ai suoi concittadini. Entrambi nella sostanza provano ad abbassare i toni della polemica ma finiscono entrambi per rinfocolarla. Comincia Reale che di buon mattino ha diffuso la sua lettera aperta con la quale intende porre in primo piano l'esigenza di legittimare l'operato dei giudici. Trova insopportabile, dice, che il dibattito rancoroso e livoroso si stia concentrando sulle persone dei magistrati che nulla di diverso hanno fatto se non applicare, secondo la loro scienza e coscienza, ciò che hanno ritenuto giusto e che rientrava nei loro poteri e doveri. Pronta la replica del sindaco Italia. La decisione del TAR prima e del CGA dopo merito al massimo rispetto. Ho mantenuto un atteggiamento sereno e continuare a farlo nonostante le continue provocazioni per il rispetto di quella fascia che con enorme orgoglio e a testa alta indosso e indosserò fino all'ultimo secondo in cui avrò la responsabilità e l'onore di farlo. Nella lunga e articolata lettera ai suoi sostenitori il Reale rilancia. Noi rispettiamo regole, persone e istituzioni. Lasciamo agli altri insinuazioni, bassezze e menzogne condotte che si addicono a chi lotta per il proprio potere personale e per le proprie poltrone, poltroncine piccole e prebende. Non le manda a dire il primo cittadino che così ribatte. Oggi, momento in cui il consigliere zigherreale cerca di accreditarsi come garante della democrazia col piglio di chissà quale supposta superiorità morale su e dei suoi alleati, almeno di quelle ancora presentabili, è smentita da una continua violazione delle regole, anche quelle del ricorso al TAR. Resta solo un enorme danno di immagine di una città patrimonio unesco e conosciuta in tutto il mondo. Confusione dei cittadini e un'estenuante e svilente campagna elettorale, priva di qualunque contenuto e di amore per la città che va avanti almeno dal 2018.